Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento. Andiamo subito a un tema che riguarda la nostra attività lavorativa. Nei primi quattro mesi dell'anno il 25 per cento di appuntamenti vendita in più. La conseguenza poi di questo è il numero di contratti quindi concretizziamo poi la nostra attività lavorativa abbiamo un più 28 per cento. Detto questo partiamo subito quindi con dare il benvenuto alle 31 nuove risorse, un nuovo contratto che abbiamo fatto nel mese di aprile. Quindi diciamo gli auguri è un grande in bocca al lupo per l'inaugurazione dell'Agenzia di Udine Centro. Siamo con la miglior assistant, miglior assistant della rete affiliata che è Laura Russo dell'Agenzia Giulia Agricola Roma. Faccio questo lavoro con tanto impegno, ho la fortuna di fare un lavoro che amo, sono molto molto contenta di questo risultato che non mi aspettavo minimamente. Ed ora veniamo alla miglior assistant toscano S.P.A. Al primo posto Loredana Scortichini. Sono eccomi. Complimenti Loredana. Finalmente. Notavo però una cosa, mentre eri in attesa, vedevo che eri comunque al telefono che rispondivi ai clienti. Ah sì. Quindi non potessi andare neanche adesso mentre eri in attesa. Miglior agente per attività e operazioni della rete affiliata. Alessio Petrelli Roma Trigoria. Fatturato miglior agente rete affiliata. Ancora lui ha fatto l'unplane. Lavoriamo sempre per migliorarci. L'augurio è quello, poi non dovessimo riuscirci. L'importante è avere la consapevolezza di aver fatto il massimo. E qui se posso spendere due parole per chi lavora qui con me, il gran merito è anche loro. Miglior agente per attività e operazioni immobiliari. E vince il primo posto Eric Blamasi Milano Centro. E ora veniamo al miglior agente fatturato rete diretta. E di nuovo al primo posto Eric Blamasi di Milano Centro. Uno se ci mette impegno, costanza e determinazione, le cose arrivano. Complimenti Eric perché credo può essere da ispirazione per tanti nostri. Me lo auguro. E passiamo a miglior self manager per attività e operazioni immobiliari della rete in franchise. Giuseppe De Cola da Catania, agenzia Borgo. Il mercato è molto vivo, abbiamo molti acquirenti. I numeri lo dimostrano come avete detto anche voi prima. Gianluca Rossi, agenzia Giulia Grigola, Roma. Festeggiamenti qui in agenzia. Ziti! Il miglior broker attività e operazioni della rete affiliata. Attilio Appeni, Brescia, spedali civili. Diciamo che il gruppo intero sia come gruppo toscano e il gruppo intero come gruppo di agenzia qua alla posta della rete civili sicuramente fa la differenza. E adesso veniamo al miglior broker fatturato rete affiliata. Marco Randolino, primo classificato. Il miglior sales manager attività e operazioni immobiliari rete diretta. Gary Blamasi, miglior sales manager team manager fatturato rete diretta. Vince Gary Blamasi, Milano Centro. Oggi in famiglia avete fatto incetta di premi. Ve lo facciamo per i genitori a casa. Non gli abbiamo dato soddisfazioni a scuola e abbiamo detto gli diamo lavoro. Puoi essere sicuramente da esempio per tanti. Abbiamo il premio per migliore agenzia fatturato rete diretta. La migliore agenzia, Milano Centro. Stanno facendo un buon lavoro anche ai ragazzi. Qui c'è il nostro presidente. Buonasera a tutti. Oggi sono veramente molto contento di essere qui finalmente. Ho una buona notizia. Abbiamo deciso di essere in campagna pubblicitaria esattamente per tre settimane. sui canali Rai, quindi Rai News, Rai 1, Rai 2, Rai 3. Spero di incontrarvi anche presto, magari anche fisicamente, non più solo attraverso la tecnologia. Perché insomma ormai veramente sono passati troppi mesi che non riesco a vedere la mia grande famiglia, la mia seconda grande famiglia. Grazie ancora e di nuovo buona serata a tutti. Salute a tutti. Salute a tutti. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Grazie a tutti.